Salve a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati nel consueto video riassunto della settimana con tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia settimana parlando di Valve. Come ben saprete Valve aveva concesso un abbonamento gratuito ai giochi presenti su Steam per tutti quanti i developers di Debian. Nella settimana Valve ha annunciato di voler estendere questa iniziativa anche agli sviluppatori Ubuntu. Quindi tutti quanti i sviluppatori Ubuntu che hanno contribuito al ramo principale potranno beneficiare di questo regalo. Restando in ambito Steam c'è da segnalare lo sbarco di Krita sulla piattaforma Greenlight. Praticamente che cos'è? Un portale sul quale vengono pubblicati programmi e applicazioni e che gli utenti Steam possono votare per poter includere nel ramo principale di Steam. Se avete quindi un account su Steam andate a votare Krita fate sì che questo splendido software open source possa migliorare e possa sbarcare nel canale principale e quindi ottenere fonti e quant'altro. Questa settimana Debian ha finalmente scelto l'init system di default per le prossime versioni. Alla fine dopo una lunga sofferta e a tratti anche golgosa discussione andate per leggere poi i posti di Marco a prevalso Systemd. E indovinate quale distro ha deciso di seguirne la scia Ubuntu. Ebbene sì, il dittatore benevolo Mark Shatterworth ha annunciato giusto ieri di voler migrare a Systemd quanto prima. Ha anche fatto un appello a tutti quanti gli sviluppatori Ubuntu per contribuire e collaborare con il team di Debian per l'implementazione di Systemd per poterne dare una versione stabile quanto prima da poter includere in entrambi le distro. Quindi Ubuntu va ad abbandonare di fatto Upstart, il suo prodotto fatto in casa, per omologarsi a quello che è di fatto un monopolo perché adesso lo utilizzano, i sistemi di Debian utilizzato da tutte quante le distro principali. Restando in casa Canonical c'è una notizia che a molti non importerà, soprattutto agli Ather di Ubuntu, ma che a mio avviso merita di essere ripresa. Canonical ha annunciato che Ubuntu Kirin, la versione di Ubuntu, specifica per il mercato cinese che include una serie di programmi, una serie di ottimizzazioni varie con servizi e quant'altro, destinata all'utenza cinese, ha realizzato più di 1.300.000 download in sei mesi. Un traguardo importante per una distro Linux, soprattutto considerato che il territorio cinese, vabbè, come d'altronde è anche tutto quanto il mondo occidentale, la gente difficilmente effettua il passaggio a un altro sistema operativo diverso da quello che trova preinstallato sulla propria macchina. Quindi un traguardo importante, perché 1,3 milioni di download insieme si significa un forte interesse per questa distro, un forte interesse, una forte voglia di migrare, una forte voglia di conoscere qualcosa di nuovo. Dal mondo Ubuntu poi arriva una notizia su Ubuntu 14.04. Verranno introdotti praticamente due nuovi tool. Un nuovo tool per la gestione dei driver proprietari che va a soppiantare giochi e l'altro tool per la gestione del touchpad. Andate per provare a vedere nel post e se siete sul kubuntu 14.04 ramo testing andate e trovate le istruzioni per poter installare questi due nuovi tool e provarli. Fonix ha ricevuto un invito per un evento Canonical che si darà mercoledì 19 febbraio. Un evento che sarà incentrato su Ubuntu Fon. Cosa ci sarà? Cosa verrà annunciato? Cosa verrà presentato? Non si sa. Non si sa ancora. L'appuntamento è dunque per la prossima settimana. Vedremo che cosa bocca in pentola in casa Canonical. Restando nel mondo della telefonia Jaxphone, la casa che produce device ingerizzate ai Jackcon, Firefox OS e quant'altro ha annunciato la data di commercializzazione e il prezzo del Jaxphone Revolution che è un nuovo smartphone che intende lanciare sul mercato questa casa iberica equipaggiato con processore Intel e che potrà eseguire due sistemi operativi mobile contemporaneamente ovvero avrà a bordo Android e Firefox OS. Il prezzo? 289 euro, tasse incluse. La data di rilascio è quella del 20 febbraio 2014. Per tutti coloro che sono interessati a acquistare al giorno zero sul sito ci sarà un ulteriore sconto se non va del dato di 20 euro quindi se siete interessati fateci un pezzerino perché risparmiate se lo comprate al primo giorno di uscita. Negli scorsi giorni c'è stata poi una inutile, a mio avviso, polemica su Firefox circa l'intenzione di introdurre una nuova funzionalità all'interno di Firefox una funzionalità che, bisogna dire, serve a raccogliere fondi per migliorare il browser l'idea qual è? L'idea è che, giusto se avete presente, quando fate clic su un nuovo tab sul più, vi si apre questa schermata con le nuove miniature dei siti internet più visitati che appunto variano in base alla vostra cronologia di navigazione e quant'altro quando però installate Firefox per la prima volta, queste nuove mattonelle sono vuote perché appunto non c'è cronologia di navigazione l'idea del team di Firefox è quella di personalizzare per la prima volta quando eseguite Firefox per la prima volta queste schermate riempirle con link a siti della comunità e link anche a siti di software e quant'altro che sponsorizzano Firefox quindi pubblicità comunque i link ai siti che sponsorizzano Firefox verranno segnalati, verranno marcati quindi non sarà nemmeno una cosa nascosta e velata quindi, ve lo dicono, questi sono quelli che ci finanziano oltretutto, questi tiles, come ben sapete, sono dinamici quindi se li navigate, quelli là spariscono e diventano i tiles che andate voi a navigare appunto in base alla vostra cronologia di navigazione e quant'altro il problema è che molti alfieri della finta privacy diciamo così hanno subito fatto una levata di scudi accusando Firefox di resa privacy per me sono poche amiche inutili perché appunto è una cosa innocente è una cosa dichiarata è una cosa che per gli utenti che hanno già un profilo Firefox non vedranno mai non vedrete mai lo sponsor e la marchetta quindi che cavolo vi lamentata fa soprattutto fa ridere che alcuni commenti arrivano proprio da gente che magari utilizza Unity o che sapete bene che cosa significa utilizzare Unity se non disattivate le marchette oppure da utenti che utilizzano comunque i prodotti Google tutti i giorni quindi si trovano pubblicità ovunque parliamo adesso di GNOME 3.12 ogni settimana arriva qualche notizia riguardante la prossima versione appunto il team di sviluppo è introdotto le jump list a partire da GNOME 3.12 sarà possibile avere delle opzioni aggiuntive per quanto riguarda l'abbia delle applicazioni trovate quindi una cosa simile a quella che è presente già su Unity dal mondo delle riasci non poteva mancare il consueto post su Manjaro perché praticamente ne fa un riasci quasi a settimana oppure anche di più è stata rilasciata la seconda release candidate di Manjaro 0.8.9 se siete intenzionati a provarla fateci un salto anche perché questa nuova seconda release candidate è basata su rame stabile quindi la potete installare senza problemi nella giornata di San Valentino è arrivata la prima release candidate di Tanglu ed è arrivata anche la nuova roadmap per il rilascio della versione stabile stando alla nuova roadmap che comunque va presa con le pinze anche perché ho visto nella Mainix ci sono problemi che hanno avuto adesso a seguito degli ultimi aggiornamenti quindi molto probabilmente scritterà la data papabile per il rilascio della prima versione stabile di Tanglu è dal 20 febbraio appunto salvo imprevisti concludiamo questo riassunto con una notizia che a mio avviso è interessante Kaspersky ha pubblicato un report su un malware molto potente chiamato Careto questo malware è stato in giro per più di 7 anni quindi è stato attivo fino a gennaio 2014 che cosa ha di speciale Careto? bene, a quanto pare questo malware è in grado di attaccare sistemi operativi Windows sia 32 che 64 bit Mac OS e Linux eh sì, ebbene sì anche sistemi operativi Linux non escludo, non escludo un esercupatore di Kaspersky che questo malware sia in grado di attaccare anche sistemi operativi mobile come iOS e Android prima di inutili alarmismi sappiate che Careto non era un virus indirizzato alla gente comune ma era destinato ad obiettivi di alto livello specifici come ambasciate società compagnie che operano nel settore dell'energia attivisti e cose del genere era quindi un malware aggressivo potente complesso eh destinato a spiare questo tipo di utenza raccoglieva una grandissima fonte eh lista di file che potete andare a vedere nei post quindi copriva tutto spiava di tutto ed era appunto molto complesso perché riusciva ad infettare tutti questi sistemi operativi visto i target vista la complessità del malware non è da escludere che questo malware sia stato realizzato da qualche stato sovrano per poter spiare eh spiare i concorrenti spiare spiare il mondo intero perché poi alla fine si è scoperto che eh ben in 31 paesi praticamente tutto il tutto il gruppo ehm è stato è stato appunto spiato da da questo malware in questi anni bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana con tante belle notizie nel mondo GNUINUS si spera e alla prossima e mi raccomando condividete il video condividete il post fate 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 andare avanti Marco Sparks ciao 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 ciao